Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Allora ragazzi, niente, che cosa è successo oggi? Oggi è successo che si sono svegliati quelli della Lega e hanno deciso che la Serie A è ufficialmente ricominciata e ricomincerà ufficialmente il 20 giugno e il 13 giugno ci sarà la Coppa Italia dato che molti di voi non mi capiscono, ve lo dirò in ucraino questo non è ucraino e non è neanche una lingua però vi assicuro che sono abbastanza felice da poter fare questo video come un collione sono veramente felice, cazzo sono felice si riprende la Serie A posso tornare a passare la mia giornata a perdere la mia vita quel giorno dalle partite si che bello, che bello, che bello adesso posso fare veramente schifo con la mia anima posso stare in santa pace questo è un primo piano pazzesco che voi vi dovete memorizzare questo primo piano voi lo dovete memorizzare perché perché un giorno dovrete capire che il mondo non è fatto solamente di una pessima forma di vita umana ma è fatto anche da gente che gioca a pallone e che vive per il calcio, cazzo quindi finalmente riprendiamo a vedere questa cazzo di Serie A e posso vedere Inzegna che segna posso vedere Ronaldo che sgambetta come una zoccola e tutti quegli altri sono felici e sono veramente euforico mi sono drogato, lo so niente adesso ci vediamo nel prossimo video ragazzi